Ciao a tutti sono Bellof del canale Bellofilme Series bentornati in questo nuovo video oggi per parlare ovviamente di Ahsoka perché è uscita la puntata 7 o parte 7 come la chiama Disney plus prima di cominciare però come sempre vi ricordo di mettere like al video quindi pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice click sul tastino iscritti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube allora siamo arrivati alla settima puntata il titolo è Dreams and Madness Sogni e Follia sesto episodio anzi settimo episodio dallo scorso come era finita eravamo rimasti con Tron che stava aspettando l'arrivo di Ahsoka almeno che prevedeva l'arrivo di Ahsoka voleva sapere vita morte e miracoli e com'è questa settima puntata allora io questa puntata l'ho trovata fantastica secondo me è la migliore puntata fino ad ora ed è un bene perché siamo almeno uno un bene o forse un male poi vediamo comunque per ora è un bene perché siamo verso la fine manca solo un episodio e arrivare alla settima puntata e trovare almeno secondo me la puntata migliore sul finale vuol dire che la serie procede bene che quindi Filoni sta facendo bene il suo lavoro a me è piaciuta tutta la puntata è piaciuta dal prologo dove ci fanno vedere la nuova repubblica sempre diciamo un po' stiracchiata sempre si potrebbe andare più in profondità però qualcosina in più lo vediamo il mini processo se diciamo mi è piaciuto vediamo anche C3PO quindi in momento fanservice in momento Amarcore però funzionale al periodo e a Guerre Stellari e alla puntata ad Ahsoka ovviamente mi è piaciuto rivedere Sabine ed Ezra assieme diciamo che si sono chiariti da un certo punto di vista e non si sono chiariti però mi è piaciuto molto il loro più che altro il clima di tutta la puntata che è molto friendly magari qualcuno poteva aspettarsi perché si diceva eh Sabine non la racconta giusta non ha detto tutta la verità ad Ezra quindi si andava a cercare il conflitto fra di loro che in realtà sì qualcuno poteva intenderla così però anche no cioè alla fine loro erano comunque amici quindi due amici con la spiegazione amici o forse più quindi la cosa si risolve e quindi mi è piaciuto vedere questa famiglia felice che si ritrova con Ahsoka nel finale e quindi vedere i nostri eroi in modo positivo cioè non in modo negativo andare alla ricerca dell'incomprensione no è proprio bello vedere tutta la puntata vedere ovviamente il momento migliore è dalla metà in poi quindi quando c'è l'assalto dei night troopers quindi delle forze di Tron però il rapporto Ezra Sabine e Ahsoka è positivo quindi si trovano insieme anzi sì li trovano insieme senza andare a dire eh ma Sabine è venuta qua ha distrutto la sfera perché adesso Tron sta tornando no sono contenti di essersi riuniti di essersi ritrovati manca Ira Sindulla che io speravo venisse risucchiata dalla balena dai Purghil però purtroppo non è stato così e va bene l'abbiamo vista nel prologo la rivedremo insieme a Ahsoka e Sochi sicuramente più avanti e quindi il clima proprio familiare della puntata mi è piaciuto tanto il culmine qual è il culmine è l'abbraccio fra Ezra e Ahsoka e devo dire che là c'è stato il momento commozione al finale mi sono dovuto asciugare la lacrimuccia poi ripeto la puntata è molto bella sia dal punto di vista di Star Wars perché è Star Wars come tutte le altre al cento per cento però mi è piaciuta proprio tanto la puntata ha un bellissimo montaggio un'ottima regia e poi un ritmo fantastico i momenti topici sono descritti benissimo molto meglio per dire che nella scorsa dove rapporto c'è il l'incontro fra Ezra e Sabine era un po' invece qua l'abbraccio Ahsoka e Ezra fantastico ma anche i dialoghi fra Ezra e Sabine anche i combattimenti i combattimenti sono uno migliore dell'altro tutti quanti duelli fra Beilan e Ahsoka e poi come si ritrovano loro tutti quanti con i macchinini dei noti perché abbiamo capito che le mini tartarughe barra granchi si chiamano noti quindi quella parte là bellissima richiama tantissimo gli evo che tantissimo episodio 6 ed è venuta bene anche qua mi è piaciuto Ezra come personaggio rispecchia Rebels ovviamente al cento per cento anche se cresciuto dieci anni avanti ha rifiutato la spada laser ma non come ha fatto Luke in episodio 8 che l'ha buttata nel cesso che quella è una scena indicibile ma ha detto a Sabine no io te l'ho regalata tienila tu e anche il fatto che lei sia diventata l'apprendista di Ahsoka si vede che lui è contento di questo ed è bello vedere come ha sviluppato i poteri della forza Ezra su Peridea barra Dathomir perché a me sembra sempre molto Dathomir questo pianeta e quindi lui non utilizza la spada non utilizza armi però nel combattimento utilizza solamente la forza poi quando arrivano tutti i night troopers che sono molti molti più di loro ovviamente è costretto a utilizzare l'arma degli alleati di Shin e Baylan utilizza i blaster per forza di cose fino all'arrivo fantastico di Ahsoka anche là i momenti topici come dicevo sono descritti benissimo e Ahsoka qua finalmente vediamo il suo potenziale non esplode perché non esplode ancora però per dire quando fa la scivolata sulla T6 fantastico quando combatte con Baylan fantastico anche la risposta che gli che gli dà durante il combattimento Baylan gli dice sai che tu non puoi vincere e lei dice ma non è detto che io debba vincerti e mi è piaciuta molto la soluzione che ha trovato Filone perché è arrivato Young con la T6 boom 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 e lei se n'è andata alla Batman diciamo fra fra il fumo e poi mi è piaciuto quando è arrivata alla fine la poteva darci un po' di più con le spade laser però quando c'è stata la reunio e Tron ha richiamato tutti quanti mi è piaciuto tantissimo ovviamente sempre di più mi piace Baylan sempre enigmatico forse potevano dirci qualcosina di più delle sue ricerche però qua abbiamo capito che allora lui c'è la separazione fra Baylan e Shinati e il discorso che fa è corretto perché si vede che Shin aspira qualcosa di più aspira al potere a forse al lato oscuro e quindi Baylan gli dice tutto quello che dovevo insegnarti te l'ho insegnato adesso scegli la tua via perché vedo che tu sei attratta dall'ammiraglio Tron e quindi la lascia libera di andare e di esprimersi e infatti diventa il delfino di Tron se vogliamo ed è giusto così dall'altra parte invece lui rimane sempre molto enigmatico sempre dubbioso sempre che scruta l'orizzonte perché sta cercando super idea questo potere inimmaginabile questo principio che ancora non sappiamo cos'è però l'interpretazione che gli da Stevenson a Baylan proprio la recitazione che ha è fantastica e come mi ha scritto nei commenti una ragazza mi ha detto sembra un po' Sean Connery ed è vero infatti nello scorso episodio, scorso video volevo dirlo anch'io senza poi non ho detto perché ho detto magari un mostro sacro è meglio non toccarlo però effettivamente Stevenson qua a fare Bela, a fare il cavaliere Gedi o non Gedi è molto Sean Connery, è molto fascinoso sarà l'espressione appunto la barbetta, è sempre così in tre quarti ogni cosa che dice anche una minima frase però ci sta cioè, come si dice, sembra un motto ogni frase che dice sembra un motto ce la potremmo scrivere, potremmo fare le magliette con le citazioni di Baylan sarebbero fantastiche e vediamo quale sarà la sua evoluzione nell'ultima puntata il dispiacere grande purtroppo è che non c'è più e quindi non so se ci potrà essere una seconda stagione di Ahsoka con Baylan però senza l'interprete, senza Stevenson a meno che Baylan non subisca una trasformazione superidea trovando questo potere, questo principio che sta cercando e quindi che ne so, poi porterà un'armatura potrebbe essere che diventi anche un simil Vader e quindi non abbiamo più bisogno dell'attore purtroppo però, essendo un'armatura alla mando insomma ci si può mettere sotto l'armatura chi si vuole non lo so, insomma intanto dobbiamo scoprire cosa sta cercando nell'ultima puntata perché immagino che ce lo diranno quindi puntata bellissima ma anzi è durata pure troppo poco ci dura 45 minuti che sono 45 totali saranno 38 è volata ce ne vorrebbero di più sia di minutaggio ma sia di puntate probabilmente è forse troppo corta questa stagione 8 episodi sono un po' pochini forse 12 come l'ultima stagione di Clone Wars sarebbe stato molto meglio però vabbè insomma vediamo se alla fine dell'ultima puntata ci sarà una scena post credit con Ahsoka ritornerà e non nel film ma in una seconda stagione oppure se ci sarà la chiusura di tutto per davvero nel film di Filoni in questo endgame del Mandoverse che dovrebbe racchiudere tutti quanti praticamente sarebbe una figata pazzesca pensate tutti contro Tron e chi sono questi tutti? come sono scritto qua sono Ahsoka sono Ezra sono Sabine sono Erasindulla poi ci sarà Mando Grogu perché non possono buttare tre serie di Mandalorian ci sta Bo-Katan ci sta Boba ci sta Fennec quindi sono tantissimi tutti contro l'erede dell'impero contro l'ammiraglio Tron insomma vediamo come si svilupperà intanto l'ultima puntata sarebbe figo avere un'ultima puntata da un'ora un'ora e venti così un mini film alla Stranger Things che le ultime due puntate erano tutte da un'ora e mezzo un'ora e quaranta addirittura ecco quindi ci starebbe benissimo però capisco che per Star Wars gli effetti speciali costano tantissimo e quindi fare una puntata da un'ora e mezza sicuramente Filoni da dire le cose ne ha tantissime però a livello di questi bisogna vedere se la Lucasfilm ha potuto fare un puntatore un'ora e mezza non credo sarà la solita puntata da 40-45 minuti massimo poi per il resto cosa vediamo andando a parlare dell'episodio allora è diviso in uno due tre quattro cinque punti c'è il prologo col processo diciamo a Erasindulla vediamo di nuovo il senatore Kagakazi quindi Xionu che è sempre più simpatico potremmo dirlo però insomma alla fine era la spunta grazie come ho detto prima a C3PO grazie a Leia Organa che gli dà il permesso insomma la protegge tanti volevano un ologramma di Leia però secondo me è giusto rispettare l'attrice e quindi va benissimo così va benissimo che C3PO faccia da portavoce però Leia poverina insomma lasciamola là fra l'altro qua scopriamo che questa che Ahsoka avviene dopo mando tre quindi dopo l'incontro fra Luke e Ahsoka che tanti dicevano eh ma Ahsoka in quell'incontro era spensierata invece qua la vediamo sempre pensierosa vabbè non ci vedo niente di male e potrebbe può essere benissimo che quella giornata Ahsoka sia andata da Luke e rivedendo Luke perché comunque un minimo di affinità fra loro due abbiamo capito che c'è si conoscono e quindi una giornata buona ce l'aveva poi ovviamente se deve andare a cercare Tron Sabine l'erede dell'impero e tutti i problemi insomma come tutti giornate buone giornate meno buone non è che una deve essere sempre uguale poi c'è il rapporto che dicevo fra Ezra e Sabine e i noti quindi le mini tartarughe loro si raccontano tante cose e Ezra scopre che l'imperatore in teoria come dice Sabine è morto perché in teoria è morto che Zeb fa a destra le reclute Sabine non gli dice tutta tutta la verità però ripeto il loro rapporto è molto bello si sono ritrovati ed è bella la positività che c'è fra di loro e che dà anche alla serie cioè in questa puntata si ride ci si diverte non si va là a scavare non ci sono chi si aspettava la baruffina fra Ezra e Sabine secondo me ne viene fuori scontento ma è giusto così ed è anche corretto con quello che abbiamo visto cioè la scelta di Sabine come ha detto Young era l'unica scelta che poteva fare è la forza che ha dato lui l'intuizione a Sabine e il futuro non si può prevedere è di difficile interpretazione quindi magari sbagliando ha fatto la scelta giusta lo vedremo solamente alla fine poi c'è Beilan e Ati che si separano tutto il discorso che ho già detto prima Tron invece si delinea un po' di più il suo personaggio forse quello che compare meno diciamo che gioca un po' a battaglia navale si capisce sempre che l'intelletto e la tattica sono i suoi punti di forza Morgan Esbeth non è contentissima lei vorrebbe fare terra bruciata secondo me però Tron è anche un temporiggiatore cioè non deve per forza vincere tutte le battaglie a lui interessa vincere la guerra infatti quello che gli interessa è andarsene e come dice lui ho fatto perdere tempo agli eroi quindi a Zoka Ezra e Sabine e a me interessa partire andarmene in questo pianeta per tornare nella nostra galassia lontana e per ora sembra esserci riuscito vediamo come andrà e poi ovviamente a Zoka che arriva a Zoka che quasi salva tutti duello con Beilan bellissimo e bellissima come ho detto prima la reunion e l'abbraccio e mo vediamo insomma cosa succederà cosa ci dobbiamo aspettare nell'ultima puntata allora Tron se ne andrà forse sì forse no non è detto perché se c'è una seconda stagione di Azoca difficile che forse parte ma forse non partirà nemmeno perché secondo me ci sarà comunque un confronto fra Azoca e Sochi e Tron qualcosa andrà storto non riuscirà a partire quindi se venisse anticipata una seconda stagione saremo ancora su Peridia o magari su qualche pianeta vicino a Peridia perché come ho detto l'altra volta siamo in una nuova galassia perché non sviluppare questa nuova galassia perché non sfruttarla per esplorare altri pianeti altre civiltà altre razze arrivano qua pianetino e se ne tornano a casa ma potrebbe essere un'occasione sprecata anche perché rimanendo un'altra stagione su questa galassia ci sarebbe tempo di fare flashback di raccoltarci meglio di Tron di cosa è successo ad Ezra e sarebbe bello vederlo in live action piuttosto che come fa la Disney oggi recuperare con romanzi fumetti ecco che si per i super 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 appassionati vanno bene però per chi non legge i fumetti non legge i romanzi si perde sicuramente qualcosa se non ce lo fanno vedere a video esempio Kylo Ren capo di Cavalieri di Ren nella trilogia sequel vedendo i tre film si capisce qualcosa? no sappiamo solo che lui è a capo di Cavalieri di Ren tutta quella cosa là è stata spiegata bene in un fumetto molto molto bello fra l'altro neanche tanto costoso sono 100 pagine 12-13 euro è recuperabilissimo e là ti spiegano bene tutta quanta la sua storia il rapporto con Luke con Snoke è un tassello importante però me l'hai messo là uno che guarda solo i film come fa uno che guarda solo le serie come fa già hai fatica a recuperare serie animate figurati andare a leggere libri o fumetti quindi con una seconda stagione c'è il tempo di far scoprire a chi non conosce Tron a chi non conosce Ezra ma anche Ahsoka e ha visto diciamo una piccola infarinatura in questi otto sette episodi con una seconda stagione hai tempo di fare affezionare le persone di amplificare tutti quanti i discorsi secondo me ci starebbe io la guarderei volentieri poi insomma vediamo cosa farà la Disney la Lucasfilm insomma comunque ci sarà quindi uno scontro fra di loro e rimarranno bloccanti questa galassia Boki lo sa poi Baylan troverà il principio come dicevo prima questo potere inimmaginabile che sta cercando che cos'è allora la teoria più ricorrente adesso da una settimana a sta parte più in voga parte da dal videogame quindi da Fallen Order che io non ho giocato io per dire non ho mai giocato a nemmeno un videogioco di Star Wars se no i primissimi quelli anni prima degli anni 90 forse Jedi Knight però in Fallen Order dove c'è Carl Kestis uno dei pochi Jedi canonici rimasti lui fa la conoscenza di questa civiltà che sono gli Zeffo adesso io non avendoci giocato non so il dettaglio sono andato ad informarmi e sembra che la scrittura Zeffo compaia nel monastero qua su Peridia delle Sorelle della Notte quindi chi va a cercare a leggersi tutte quante le scritte cose impossibili però c'è chi lo fa soprattutto gli americani hanno scoperto questa cosa sembra che la scrittura sia proprio quella il capo degli Zeffo questa civiltà decaduta che prima era buona ma poi era diventata cattiva il cui capo è Kuyat si chiama così adesso non esiste più deceduta era nella nostra galassia lontana lontana però poi se ne erano andati nelle regioni ignote ma bene bene non lo si sapeva quindi può essere che siano tornati in questa nuova galassia forse la galassia di origine perché appunto ci sono le scritte nel monastero delle Sorelle della Notte questi Zeffo erano cultori della forza in una maniera penso diversa dagli Cedi o dai Sith comunque in maniera molto molto forte quindi si sa mai che su Peridia oltre al monastero delle Sorelle della Notte ci sia qualche altro luogo importante degli Zeffo dove trovare qualche segreto e Bela magari sta cercando questo segreto o sta sentendo questo segreto che lui dice partire dalle leggende degli Jedi quindi del Tempio Jedi dell'Ordine Jedi non lo so questa appunto è una teoria che riporto poi per il resto aspettiamo l'ultima puntata sarà una puntata purtroppo non lo so non avrà un finale ahimè non ci sarà quindi probabilmente sarà Tronca io spero che finisca con un bellissimo climax che ci lascia così appesi difficile avere un finale alla Mandalorian 2 con Luke che là poteva essere proprio la fine di tutta Mandalorian se vogliamo con la separazione fra Mando e Grogu qua invece o vediamo Tron partire per tornare nella nostra galassia oppure succederà qualcosa e saranno tutti fermi là immagino che sia così mi aspetto ripeto una post credit non che ci racconti qualcosa ma semplicemente che ci ricordi che ci sarà una seconda stagione o che Ahsoka tornerà nel film di Filoni chi lo sa lo sapremo solo mercoledì prossimo alle 3 di mattina come al solito detto questo ho detto tutto spero che la mia chiacchierata su Star Wars su Ahsoka vi sia piaciuta e come al solito vi saluto vi ringrazio e vi abbraccio ciao a tutti da Beluf e al prossimo video ciao a tutti